Bene, ho raccattato qualsiasi cosa da qualsiasi delinquente Ho fatto il pieno di tutto, di armi e tutt'altro E mi stavo dimenticando di questa leva Non so cosa faccia questa leva, vediamo Ah, ottimo Meno male, perché mi pareva strano, me ne stavo per andare da qua Ho detto, ma scusa, è la zona dove ci sono gli schiavi Mi pare strano che non facciamo nulla per liberare gli schiavi Non trovavo, ho aperto un coso o niente E alla fine, ho visto, c'era la levetta che mi stava fregando Beh dai, avete sentito il rumorino? Buona azione Ottimo, direi veramente ottimo Nel frattempo, ho provato a fare una cosa Se adesso scatta meno, spero di sì Perché a quanto pare vedo che leggermente scatta meno Però scatta sempre Ma solo quando si fa il cambio di zona Perché questa è bloccata? Cioè quando si fa il cambio di zona c'è sempre Lo scattino del caricamento Però Meno Adesso vedremo Ditemi voi se si vedrà meno Qua meno scattoso Perché se dà fastidio sia a voi Dà fastidio anche pure a me Questo è il cambio di zona Eccolo Intanto io ho perso la macchina La macchina l'ho messa lì Bene, allora Abbiamo liberato i schiavi Ecco, buongiorno Dobbiamo andare di là Lei c'è un posto di blocco Però Però non c'è nessuno qua Mi ricordo che la sera era piena di gente qua Non ce n'è neanche uno Adesso andiamo a vedere E comunque il bp lo mi è proprio bugato Cioè proprio fa zero Fa rumore Se non fa più il bpppppppp Niente Sì vabbè qua Scatta per forza Siamo in una zona aperta Sta caricando tutta la roba Vedo in lontananza che carica I vari modelli e altro Per forza qua scatta Forse è un posto più chiuso Però più che altro il fastidio mi dava quando stavamo per sparare Che andava a scatti Guarda no non c'è più neanche il BP Non c'è più guarda Quando stavamo per sparare scatta E in quel mezzo secondo mi fa sbagliare la mira E manco l'esho Quello era fastidioso Quello lo era veramente Spero solo che mi abbia risolto quello Perché è la cosa più fastidiosa Dello scattio Mi stupisco veramente che non c'è nessuno adesso Appunto carbonizzato Rasp Cassetta Questa è un'altra Eh si vede che è una postazione che ci sono di notte Ma non di giorno Boh abbiamo preso tutto Arraccappato qualsiasi cosa Guardi non ce ne sono Non si so forse solo di notte C'è la postazione Ok siamo nel punto giusto Perché ho messo la maschera Mamma mia Scendi giù Qua c'è la segnalazione di un qualcosa Non vedo gente Non ricordo Mi sembra tanto un posto da mutanti Però luci ci sono Oh ma che Oddio ragni Eh no eh Boh c'erano I ragni volanti Non si sa perché Ragni volanti Ho trapassato il ferro Ragni volanti eh Mutanti ma volanti Ebbè 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 Ah ok 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 Anda lì Se va giù Ecco Ecco di quei cosi volanti Demo Allora io direi di dare un'occhiata veloce In giro Non va più la torcia Non si spegne più la luce Guarda Clicco sto cliccando a F Guardate Madonna Ecco perché non mi va più Inventario Dov'è? Nb Torcia Premi F Non va Non mi si spegne Guarda Mamma mia Ma porca vacca Dovrò andare Ma guardate Ti clicco più volte F Guarda E niente Sta puntata Saremo con il nostro visore notturno Perché quanto pare Devo ravviare il gioco Che è bello Guarda Vedo assolutamente nulla E niente Mi arrangerò qualcosa qui Che è bello Direi Niente, mi ha scattato Cambio all'arma o no? Che cos'è? Mattone attraverso il coso, l'ho visto Mi ha colpito Mi ha colpito, eh? Permesso Oh Oh, parte Che quei tizzi ce l'hanno con me? Siamo senza torcia Che bello Che bello Porca vacca Corre dalle palle Ma ha sparato da dietro Oh, ma Ma sta arma vuole tirare Allora Avevo covacciato Mi ricordo che diceva Che era più preciso il colpo Da covacciati però Ripiegate Dobbiamo andarsene Niente Che stai facendo te, amico? Da covacciati mira meglio Che cavolo di arma è? Blu Io non so voi Ma io ho visto il tizio Che mentre ha raggiunto di spalle Con l'arma Ha cominciato a sparare E mi ha colpito Non so io Se vedo male o cosa Se vedo male o cosa Simpatici Un po' Un po' Sì Un po' Anche simpatici io non vedo nulla eh dai però amici dai sto solo un attimo correndo no dai si sono svegliati e basta non si sono accorti di me guardalo oh si si oh si oh cos'è l'uomo delle sabbie ma che cazzo è mi ha trapassato tutto è andato sopra è andato ma che cacchio era cioè dai 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 scoppisci la testa eh ma levati cavolo prenderti in testa no non sono uscito prenderlo in testa guarda è scomparso il coltello grazie ma io sono rimasto veramente male eh è passato sopra il mobile attraverso è andato andato sopra il soffitto boh ehh metro 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 ma Allora Non riesco anche ad andare avanti Fu morto dietro Perchè sono rallentato Perchè Sì vabbè dai Sbucate fuori degli angoli Perchè siete rossi voi Perchè siete rossi Guarda col mattone in mano Morto col mattone in mano Quello non è il mattone della fede però Vabbè dai Amico Dai non potete Trapassare gli armadietti però Tutto ma non Trapassate gli armadietti Per piacere Cos'è quel coso lì? Adesso che ci andremo Che da tutto ma non Trapassate sti Madonna di armadietti E' imprendibile Oh di fianco Di fianco due centimetri Imprendibile Eh sì dai il mattone attraverso il muro Ma vi mattono tutto io Non so male Dei vatti Oh Finalmente un Componente per l'arma D'aria compressa Finalmente No perchè sul coso Cos'è? Allora medic kit Ce l'abbiamo Laser verde Viene montato su un corpo Insieme a una serie di modifiche Boh Ma io l'infrolo Sì a quanto pare Per me Canna lunga Ma andiamo di canna lunga Ho giocato un visore notturno Tanto mi conviene Usare il visore notturno Perchè al momento Mi va solo quello Quindi Per quanto tempo abbiamo resistito In questo deserto Senza scopo Senza speranza Chi dovevamo proteggere? Gli abitanti del posto Che in pochi anni Sono tornati All'età della pietra Poi sono arrivati Gli altri Ex militari Ex operai Della piattaforma Ed ex mafiosi Beh Gli ultimi Non così Ex Loro avevano Uno scopo Un'idea Certo All'inizio Li abbiamo derisi Giocare A essere Dio Ma poi Il pensiero Di provare A creare Una pervenza Di ordine In questo caos È penetrato Lentamente Alla fine Tutti siamo entrati Nel circo Della sacra fiamma Beh Questo è un mondo Nuovo Siamo vissi Geixли Nuovo Cit起來 Ok Ok piccoli mutanti in quella zona che fanno valdoria ops, scusate fanno letteralmente valdoria eh, dov'è allora? beh, non me l'ha segnata, beh, non me l'ha segnata, beh, vabbè andiamola non penso che ce l'hanno con me si, guarda quanta roba accumulate lì dentro quel geyser ma che, ma si, si cosa? così, what the fuck, si girano perché sta cambiando il vuoto? no, 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 brutta merda brutta merda che non sei altro no, 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 adesso ti giuro io, ti tiro giù io adesso, vieni qua la viene picchiata, schifoso vi rompere la minchia adesso sto coso guardalo ma che... oh ma che cacchio sei tu? oh guardalo qua che arma è? no, morca madre ma che cavolo è bugato? fatto male proprio Ma cosa ho fatto male? E muore, brutta bestia Che ho fatto malissimo Che che punzecchia qua? Già mi ha dato fatidire sta cosa qua Che che punzecchia qua? Oh lì Levati Non provare nemmeno a toccarmi Guarda arriva anche l'altro Che punzecchia qua? Che dai salta Artyom Mannaggia te Vedete questo è un tipico episodio di esplorazione Esplorazione su metro Così Non potete lamentarvi perché vi sto facendo vedere Eh sì vabbè morto sulle scale Adesso non c'è un componente decente ma arrabbio Ma è tipo un fucile da cecchino Sto qua Eee niente L'ho già preso tutto Non c'è scendere velocemente Niente Sì vabbè dai Ok va bene dai Va bene Ok 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 Me la sono cercata io Io che provo a saltare sopra la tenda Invece mi spacco proprio letteralmente le gambe